Ogni volta devo sentire, leggere, che tutti preferiscono quello di Tobey Maguire e Spider-Man, ma non esiste soltanto lui nel centro-universo Marvel, ma esistono anche altri Spider-Man oltre a quello di Tobey Maguire, perché c'è anche quello di Andrew Garfield e anche quello di Tom Holland. E quello di Tom Holland rispetto a tutti e due è molto più ragazzo, molto più umano rispetto a loro due, perché deve superare le difficoltà di tutti i giorni, la presa in giro forse. È che è da pochi mesi e Spider-Man è un un po' inesperto. Ma poi tra il prossimo film e quello successivo, diciamo il sequel di Far From Home, cioè No Way Home, sarà ancora più difficoltosa la situazione. Perché dopo che il mistero ha svelato la sua identità, gli amici, i familiari, la fidanzata, non possono più stare in pace perché, dato la svelata identità di Peter Parker, le difficoltà sono accresciute molto molto. Comprendete la differenza tra i due Spider-Man? Esatto. Ma tra il rapporto amoroso mi piace molto quello tra Peter Parker e Tom Holland e Mary Jane. E anche quello di Andrew Garfield è di Amazing Spider-Man di Peter Parker e Gwen Stacy. Mi piace molto il rapporto. Ma quello di Tobey Maguire, beh, di Sam Raimi, della regia di Sam Raimi, non è che mi piace molto il rapporto tra Peter e Mary Jane. Ehm potrà avvicinarsi di sfuggita. Ma non ho visto alcune, non ho percepito alcun amore, un vero rapporto. Ma quello di Amazing Spider-Man 2 è soltanto nella scena madre che si vede molto l'umanità di Spider-Man, di Andrew Garfield, ripetendo ancora. Perché dopo, quando Gwen cade giù, anche quello di, anche Spider-Man si butta a capofitto e poi con la ragnatela ad afferrarla. E in una sequenza si vede che la ragnatela assume una forma della mano per prendere la mano di Gwen. Ma sfortunatamente è troppo tardi. Gwen è morta dopo un... E dopo un centimetro ha sbattuto la testa ed è morta. E' lì, proprio lì, in quel momento che è molto più umano, molto più rispecchiato rispetto a quello di Tobey Maguire. Quello di Tom Holland penso che superi di gran lunga i due film. Nel lato, nel lato della vita di tutti i giorni, sentimentale. E con No Way Home si vede ancora di più, quei lati. Beh, potrei riguardare di nuovo i tre Spider-Man di Sam Raimi e quello di i due The Amazing Spider-Man di Andrew Garfield. Così potrei rinnovare la mia opinione di quello che ho detto oggi. Vabbè, in quel caso potrei anche cambiare idea di quello di Tobey Maguire. Ma finché non lo vedo, la mia opinione resta sempre la stessa. Va bene, e... Vabbè, e ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. E grazie per aver visto questo video. A presto, ciao e buona cena. A presto, ciao e buona cena.